Assicurare ai cittadini che versano in condizioni di disagio la possibilità di poter liberamente circolare sul territorio provinciale e regionale. E questo è l'obiettivo della Regione Basilicata con l'approvazione di una delibera di giunta annunciata dall'assessore regionale alle infrastrutture Luca Braia con cui si stabilisce che la Regione assegnerà ai comuni lucani che ne hanno fatto richiesta, sono 83 in tutto, di cui 27 della provincia di Matera e 56 in quella di Potenza, la somma di 199.500 euro per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per l'anno 2013. Il contributo, ha spiegato l'assessore Braia, sarà ripartito tra tutti i comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi della legge regionale del 98 e che hanno attivato le procedure per l'erogazione dei fondi ai cittadini aventi diritto. La limitatezza economica, ha detto ancora Braia, non deve rappresentare anche un limite al libero movimento e alla fruizione dei servizi principali a partire dall'istruzione e dalla sanità.